www.feyyaz.tv perché anch'io, ultimamente, ho debiti di assumere il sesso dell'età, non sono buosessuale, però a un po' del giorno, l'energia potrei lavorare anche pure nel luogo, quando un anno non c'è un caffè dell'energia, quindi sto vedendo questa azienda di ora, che in più da 5 anni ha un organo in San Pietà, a causa dell'energia in San Pietà, quindi tra poco a breve è trovato, tra loro, un grosso confetto, una vezia su disabilità e sistolità, che infatti la mia esigenza, che adesso serve pure di trovare un prezzo pronto, infatti ci sto pensando, seriamente, a cantare questo, perché non posso aspettare la distrazione italiana di un'altra cosa che voglio dire, che sono qui, ma non sono cinque stelle, anzi, con idee politiche di altri giornalmente a posto, che per quanto riguardano altre scelte ultime dal movimento, che però sono molto aperto a tutte le politiche, per ritenere ai cinque stelle di di fare una posizione insieme, perché ce n'è bisogno. Io, per farvi capire che persone sono, come invitato Fland, sia il sindaco della media, che l'assessore storico per favore, che oggi conoscono, per essere una sentinette di fondamentale, che quindi sono questo, questo sono io, quindi vi lascio di riperciare, che sono conto, che interessano. Grazie. Grazie a tutti